Con il direttore generale della Renato Curi Angolana Antonio Bucci, ancora direttore generale, scherzandoci un po' col sorriso tra le labbra, ancora Renato Curi Angolana. Le sensazioni principali dopo questo nuovo inizio e soprattutto come ci si è arrivati, direttore? Soprattutto sono contento ancora a Renato Curi Angolana. Ci siamo arrivati grazie all'amministrazione, al sindaco, all'assessore Antonio Romano e soprattutto a questi imprenditori di Città Sant'Angelo che finalmente hanno capito che avevamo bisogno di tante forze nuove. Direttore, è stata importante, per non dire definitiva, la riunione, chiamiamola così, che si è svolta all'interno dell'Aula Consigliare di qualche giorno fa quando alla presenza ovviamente del sindaco Matteo Perazzetti, c'era il presidente Spinelli, c'era Claudio Croce. Insomma, sono venute fuori un po' le criticità e le critiche anche di alcuni tifosi con la promessa da parte del primo cittadino di trovare forze fresche per fare andare avanti questa matricola, questo simbolo che è quello del dragone della Renato Curi Angolana. Da lì la decisione finale di riprendere il cammino, ovviamente, come diceva lei, con forze fresche, ma sarà un cammino in discesa, in pianura o in salita, questo a livello sportivo ovviamente. Guarda, è stato importantissimo quell'incontro e naturalmente noi dobbiamo, io come noi società, ringraziare il sindaco perché effettivamente lui ha cercato sempre di avere un equilibrio e di far sì che in modo che si avvicinasse la gente e che si impegnasse anche con i tifosi o con imprenditori che si potesse realizzare questa nuova, come devo dire, nuova ripartenza, questo nuovo aspetto calcistico positivo, insomma, io lo ritengo che sia una cosa positiva. Le figure in una società sono importanti, però sono anche importanti poi quando si cerca di allargare alla comunità quello che è il mondo del calcio. Dopotutto noi rappresentiamo la città, rappresentiamo i piccoli bambini, rappresentiamo la persona un po' più adulta che viene a vedere le partite, siamo di riferimento e noi vogliamo che anche loro partecipino in questa situazione. Poi ci sono degli imprenditori che si sono avvicinati capendo che adesso è un momento difficile del calcio. Posso solo dire che negli ultimi 10-15 anni Bangoschi e Spinelli si sono addossati, si sono impegnati per far sì che si continuasse a fare sempre calcio con tante difficoltà. Hanno tenuto sempre la parola, hanno cercato sempre di fare calcio in un certo modo e adesso è arrivato al punto che effettivamente bisognava capire un attimino quali erano le situazioni per andare avanti. La situazione per andare avanti è l'unica, era questa mobilitazione della città, che ritengo della città, perché io sono convinto che tanti imprenditori, ascoltando la città e ascoltando anche il tifoso, dove voleva fortemente che si continuasse a fare calcio con questo nome, Renato Curangolana, e sempre con le stesse persone è stata una cosa, ripeto, positiva, una cosa che può far solo bene per il futuro di questa società. Direttore, la domanda è d'obbligo, come si è chiuso il rapporto, se così lo possiamo definire, con Quintino Paluzzi e con Claudio Croce, e poi in ambito calcistico, se vi state già muovendo per strutturare la prossima stagione, ed ovviamente questa domanda gliela devo fare, se almeno la figura del mister è stata già individuata. Rispondo una cosa alla volta, perché dopo magari se dimentico qualche domanda che mi hai fatto, me la puoi riproporre. Allora, per quanto riguarda, noi ringraziamo l'imprenditore Quinto Paluzzi, ringraziamo la Curi Pescara, nella persona di Croce, Martorella, Gresta, Sasso, non so se dimentico qualcuno, perché loro si sono avvicinati a noi e hanno messo a disposizione, si sono messi a disposizione affinché si continuasse a fare calcio in Città Sant'Angelo. Mi ricordo che l'imprenditore Quinto Paluzzi disse, io sono rimasto solo, dall'altra parte Bangoschi e Spinelli sono rimasti soli, e dice, come possiamo fare per fare calcio? E se cercate di fare questa nuova società, tanti la chiamano fusione, ma sarebbe stata una nuova società, dove c'era la volontà di tutti di continuare a fare calcio a Città Sant'Angelo, di giocare a Città Sant'Angelo, di tenere la squadra a Città Sant'Angelo, e naturalmente di fare qualcosa un po' più importante, voglio dire, non pensare solo alla salvezza, oppure con un budget minore. In questo caso ci sarebbe stato un budget diverso, la volontà di Gabriele Bangoschi e di Spinelli era quella di continuare, di dare continuità al calcio a Città Sant'Angelo, e si è deciso di fare questa nuova società. Poi di fronte a certi aspetti, tu eri presente forse lì all'aula consigliare quando il dottor Spinelli disse che se in 4-5 giorni, 6 giorni, perché abbiamo dato un termine, e che dopo non c'erano più i tempi per iscrivere la squadra, se ci fosse stato qualcuno che era disposto a darci una mano e nello stesso tempo a rilevare la società... Si poteva tranquillamente tornare indietro, diciamo così. Vettore, possiamo dire tranquillamente che fino a qualche giorno fa lei stava operando in sede di mercato in collaborazione a Braccetto con Mr. Bonati, questo insomma non credo sia segreto di Stato, appunto per rimarcare la volontà di proseguire per quel percorso prima dell'intervento di questi nuovi imprenditori. Certo, io fino a due giorni fa, poi ho saputo che c'erano queste novità, ma fino a due giorni fa stavo operando in mercato, nella scelta dell'abbigliamento tecnico, nella costruzione della squadra. Non nego questo. E questo, in poche parole, io voglio far capire che noi fino a due giorni fa stavamo operando, ma in collaborazione con i due gruppi che era l'imprenditore Paluzzi e dell'avvocato Croce. Ci siamo sentiti più volte, c'era un'idea su come fare la squadra e questo è tutta la luce del sole. Perciò voglio dire, tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto alla luce del sole. Visti i tempi, direttore, la scelta del mister che ricada verso Paolo Rachini, che è stato con voi ovviamente fino a qualche settimana fa, può essere la scelta più, non solo giusta, ma la scelta più celere, più corretta, appunto per ammortizzare un po' una tempistica particolare? Allora, noi siamo molto legati alla figura di Paolo Rachini. Diciamo che ha finito, adesso ha completato il campionato dove ci ha portato alla salvezza, ci siamo salvati, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e con alti e bassi diciamo che abbiamo fatto un bel lavoro, come tutte le società può succedere queste cose. Ma nella scelta tecnica adesso, secondo me, va affrontata in un modo diverso, perché ci sono anche altri imprenditori dove effettivamente è vero che sceglie il direttore, ma è anche vero che io sempre ho condiviso con qualcosa qualcuno, in questo caso qualcuno sarebbero, potrebbe essere il presidente, potrebbe essere il venditore nuovo, potrebbe essere, perché secondo me un direttore è vero che deve fare delle scelte, ma è anche vero che deve sempre condividere o spiegare qual è la scelta che fa il direttore. Direttore, l'ultimo e poi chiudiamo, l'ambizione, se è quella dello scorso anno, se è quella degli anni passati, recenti, o se invece si vuole ripercorrere un qualcosa di diverso, vecchi fasti che hanno portato tempo fa l'Angolana in quarta serie. Guarda, io per natura sono molto ambizioso, se siamo quart'ultimi in classifica penso sempre che si possa arrivare ai play-off, ecco come la penso. Naturalmente bisogna stare con i piedi per terra, ma non nascondo che c'è un entusiasmo diverso anche da parte del Presidente e di Gabriele Bancosti. Però da quello che ho capito, direttore, non c'è solo un entusiasmo sotto l'aspetto caratteriale e quindi di atteggiamento, c'è anche un entusiasmo sotto l'aspetto economico. Ecco, questo voglio dire evidentemente... Volevo arrivare anche a questo. Anche qui racchiudendo, l'anno prossimo non si potrà chiudere con la frase che ha citato Pocanzi, ci siamo salvati e abbiamo raggiunto l'obiettivo. Diciamo che questo, l'anno prossimo, da quello che ho capito, non sarà il vostro obiettivo. Almeno questo lo possiamo dire. Questo sì, lo posso dire. Grazie.